musica Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio di The Long Dark Allora, con tutti i survival a cui sto giocando ultimamente Beh, Ark e... Oddio, scricchio a tutto Ark, Subnautica e poi altri che magari sto giocando Fuori video, mi impallo con i comandi, cioè mi impallo con le cose letteralmente Tipo ora sono un po' abituato a Subnautica, poi prima ero abituato ad Ark E ora è tutto un mix, un super mix Quindi, devo di nuovo rifamiliarizzare un attimo con questo gioco Allora, prima di tutto Prima di tutto, sto già morendo di fame e morendo di sete Perfetto, l'inventario era questo qua, perfetto Allora, direi di mangiare, di mangiare questa bella barretta Madonna che crrrr, tutto scrocchierolloso E di bere un po' d'acqua E se non ricordo male, io avevo messo una bella trappolina per top Eh sì, per top Una bella trappolina per i conigli proprio qua fuori Adesso non mi ricordo About... Punto, punto, punto di domanda di ore Quindi non so se sia buio o se sia luce Al momento Scopriamolo insieme No, torno dentro, grazie È stato un bel piacere È stato un piacere Non si capisce un cazzo Letteralmente non si sa se... Mamma mia Qua mi tira giù la casa Allora, visto che c'è la super... Super tempesta gigante fuori Io direi che... Mamma mia Io direi che passiamo un po' di ore Perché mi sa che è notte Perché, insomma, era tipo tutto rossastro E non si capisce... Non si capisce veramente niente Quindi Dormire no Perché vedete che sono... Non sono stanco Però posso passare un po' di tempo a giocare Passiamo tipo, boh, 5 ore a giocare a carte Così proprio ci facciamo una bella scopettina Allora, la scopettina mi ha... Mi ha lasciato abbastanza stanco E anche debilitato fisicamente Quindi direi che ci beviamo un altro sorsino d'acqua Perché tanto va Eh, ne ho 6 litri Sono abbastanza a posto di acqua per adesso Di acqua sono veramente a postissimo In casa si sta abbastanza bene Ci sono 6 gradi Sta a posto La tempesta di neve dovrebbe essere finita Andiamo a vedere fuori E ho paura che la mia trappolina sia distrutta, sapete? Ok, fuori... Fa un po' freddo, ma... Meglio di niente Qui? Oh, ma qui non ho preso nulla Dai, i cognetti sono lì Che poi io ho un dubbio Snare Che vuol dire? Take it, leave it No, devo lasciarlo qua Ma secondo me Messo qua fa caccare Ascolta Prendilo e lo mettiamo tipo qua Dove stanno i conigli Ascolta Io lo metto proprio qua, eh Qui Li metto proprio qui Ma non so nemmeno se devo tipo... Place Oh, oh, ma come corre? Ma come corre? Ficcati qua dentro Cioè che ci sei Non so nemmeno se devo... Se devo prendere... Cioè se devo mettere tipo delle esche dentro Ma non credo Sicuramente non credo Boh, facciamoci un giretto Dai Coniglio Ma io posso prendere il coniglio? No, non posso prenderlo Il brutto è anche che non... Cioè non posso tipo equipaggiarmi di nessun coltello Per ammazzarli Va che mi scorrazzano tra le gambe liberamente Ma maledetti Vediamo due bastoncini Anche se in casa sono pieno letteralmente Cos'è sta roba? Old man's beer Ah, l'ichene Ah, l'ichene Trovato nell'antica foresta Del Pacific Northwest Boh, io prendo Anche se Non so Sta un po' È un po' freddino il mio signore Coniglietti di merda Dai Ficcatevi dentro quella trappolina Ma secondo me non funziona Cioè per funzionare Tipo Deve non passare Boh 3-4 giorni Minimo 3-4 giorni Minimo Allora Ho 8 ore di luce 8 ore di luce Io direi di sfruttarle Sono al 100% della condizione Quindi anche se ho un po' di freddo Non è importante Direi di sfruttare queste Guarda Queste ore di luce E Ah, cazzo, sono pesante Direi di sfruttare queste ore di luce Per andare a cercare qualcosa Facciamo una cappatina in casa Giusto per Rifocillarci Bere E E stare un po' al caldo Poi parto Ok Sono abbastanza Cioè, sono abbastanza riposato No, mi mancano Letteralmente 4 ore di sonno Ho scelto il momento sbagliato Per Per dormire Mi sa Allora, facciamo che vediamo un po' come si fa A craftare Qua c'è il workbench Vediamo un po' Allora Posso farmi un amo Posso farmi una torcia E posso farmi Cos'è sta roba? Ah, ok Una cosa per Per provare le infezioni Che però per ora non mi serve Uh, l'arco Arco Per fare un arco Ho bisogno Di due Di due Due interiora Che se non sbaglio Ne ho una sola E Cured maple sapling Ho bisogno di Di una piantina Porca tra che però non ho Cazzo, un arco mi farebbe veramente comodo E anche le frecce Per le frecce ho bisogno di pezzi Di legno di birch Non mi ricordo cos'è Però Vabbè, sì Ah, simple arrow E arrow shaft Oh, interessante Arrow Mi servono un sacco di cose Che però no, no, no Mi sa che fuori c'è di nuovo tempesta, eh Facciamo che ci vediamo Il giorno Il prossimo giorno Tanto io c'ho C'ho Il cibo da Cioè, c'ho questa razione militare Che mi dà 1750 calorie Ragazzo, eh Vedete Uno ce l'ho di Fresh gut Ho questo qua 1750 calorie Facciamo che prima dormo un po' Vediamo se ho catturato qualcosa Nella trappola Eh, l'ho preso Ho preso un coriglietto Oh, eh Ma si è strozzato Dammi tutto Dammi tutto Siamo a notte Ma chi se ne frega Prendi tutto Un po' di carne Che mi serviva il cibo Oh, ma allora funziona Sta trappolina Ci vuole solo un bel Mamma mia Ci vuole solo un bel po' Prendiamo anche la pelle Sì, lo so Ho freddo Eh, pazienza E prendiamo gut Ah, ho capito Porca tro... Allora È notte fonda Eh, le budella E la pelle Possono essere trattate Solamente se le lascio Cinque giorni Ad asciugare in casa Quindi io devo buttarle Devo buttarle tutte in casa La pelle Altrimenti non serve a nulla Porca puttana Non lo sapevo Infatti mi chiedevo Ma stavo dicendo Ma perché non posso craftarlo? Vedi, quird Vuol dire che si sta Asciugando Uh, me l'ha buttato in culo Non sapevo Vabbè Passiamola questa notte Dai Che di giorno Andiamo un po' in giro Ok, allora È giorno Sono abbastanza affamato Però Il problema è che Non posso Non posso accendere il fuoco Perché non ho tinder Non so cosa sia Al momento tinder Credo sia Tipo la paglia Facciamo che Io mi Break down No, no, no Facciamo che Mi faccio un amo Un amo Perché Se trovo un filo Se trovo un filo Poi magari pesco Così Avrò abbastanza carne Eh, ma la Ho bisogno di crit gatto Vabbè, allora Usciamo E adesso andiamo a farci Un bel giretto Oh, guardate qua Guardate qua Quanti animali È pieno di conigli C'è un cervo Ah, avessi un'arma Avessi un arco Peccato che non ho Veramente niente Però questa è Un'ottima zona Per mettere una trappola La metto qua in mezzo E prendo Guarda quanti Quanti conigli ci sono Al di là di questa collina Spero di trovare qualcosa Qualcosa che non siano lupi Ovviamente Perché Per ora mi sa Che ne ho trovato uno solo Ma non mi hanno attaccato Per fortuna Comunque gli indumenti Mi stanno proteggendo Abbastanza bene Ho meno 14 gradi Che vabbè Non è È tanto Ma Non così tanto Come prima Mi sa che ho un po' fame Eh già Eh ma finché non trovo Sto cazzo di tinder Quello è un lupo Quello è un lupo Però sta scappando da me Va bene Meglio così Ma io me devo star nella larga No, non sta scappando È tipo lì Nei dintorni Ah, stare in mezzo Alla foresta È pericoloso Oh, oh, oh Una baracca Oh no Forse è quella di prima Forse è quella di prima Distrutta E ho girato attorno Io spero di no Mi sa proprio di sì Eh sì È quella distrutta Eh sì È quella distrutta di prima Da dove sono arrivato Io mi chiedo Se mai riuscirò a tornare Alla mia baracca Secondo me no Perché sinceramente Io mi sono perso Sono in mezzo al nulla Al L'u- No No Non mi sta inseguendo Vero Oh mio Dio Mi sta inseguendo Mi sta inseguendo Mi sta inseguendo Mi sta inseguendo Oh, dov'è il flare? Equippatelo Col flare penso che devi poter Ritenere a bada In teoria Oh mio Dio Mi sta venendo addosso Forse non mi ha Cioè no Visto mi ha visto Magari non se la piglia con me Forse io riesco a 6.000 No, no, no Ok, così dovrei scacciarlo Ma per ora Per ora Se posso Lo evito Cioè corro Però se mi viene addosso Provo a difendermi Forse l'ho seminato Forse l'ho seminato Dai, una baracca Non ti chiedo tanto Una baracca Un posto abitato Ok, pare che l'ho seminato Forse l'ho acceso anche per niente Sto flare Però ero parecchio spaventato Frozen Creek Ok, ho trovato una nuova località Forse qua trovo qualcosa Io spero di sì Aspetta Lì vedo una recinzione Quindi È zona umana Ok, dimmi che c'è qualcosa qua Dai, questa è una vallata Ci dovrebbe essere qualcosa Oh, forse quella è una casetta? È una casetta Speriamo perché sono Allora, ho sete Ho fame Ho tutto Che cacchio è sto affare? Vabbè, legna Ma che non è una baracca Cos'è? Una postazione Eh, lo so che hai fame Una postazione Un arco! Un arco! Un arco! Equipa l'arco subito Freccia! Arco e freccia! Oh, ora mi sento È anche un'accetta Prendi tutto Ora mi sento veramente Un bende E pain kills Perfetto Ora mi sento Un vero sopravvissuto Però prima Allora, qua sono al 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 sicuro da Qua sono al sicuro Dal vento In teoria Cioè, se mi abbasso Quindi facciamo un bel fuoco E mi devo riscaldare Perché altrimenti Qua Qua addio No, qua dentro Non posso proprio Però posso metterlo qua Ai piedi Ok Allora Ho bisogno di Tante chance di successo Quindi Lamp oil Sì, sì, no, no Assolutamente bisogno Di fare il fuoco Quindi Ho bisogno del 100% Di possibilità Perfetto Allora Meno un grado Mettiamoci Mettiamoci Un po' di Ok Così mi aumentano Anche i gradi Perfetto E ci cuciniamo Un po' di cose Cuciniamoci tutta la carne Di coniglio che ho Perché devo assolutamente Mangiarla E anche il caffè Ok Allora Vicino a me ci sono 0 gradi Che è una merda Però Forse se ci metto Il carbone Aumenta di gradi Uh Decisamente sì Sì, 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 sì Il carbone è pazzesco Guarda quanti gradi Perfetto Ora Ora sono Ora sento 17, 18, 19 20, 21 Il carbone è pazzesco Ora sento 24 gradi fuori È come se fossi in casa Anzi di più Mica sono in primavera Va benissimo Allora Beviamoci il nostro Caffè Anzi no Il nostro caffè caldo Ce lo beviamo Ci mangiamo Ci mangiamo Ci mangiamo Il coniglio 65 calorie Ma come Ah ok 450 Perché quello 65 Boh non lo so Non lo so Allora io ho una domanda Madonna la mira È qualcosa di indecente Ho una domanda Molto importante Un orso Non mi piace questa cosa Allora la mia domanda Ora ne ho più di una Innanzitutto Quell'orso mi attaccherà Per Seconda Perché c'è un orso In mezzo al ghiaccio Terza Se io sparo un coniglio E lo ammazzo La freccia la recupero Quarta Se io sparo il coniglio E lo manco La freccia la recupero Sinceramente Non ho una risposta A nessuna di queste domande Soprattutto per l'orso Però io ho bisogno di cibo Quindi Fatemi fare il cacciatore Un attimo Sì sono lontano dal fuoco Ma per ora va bene così Eh ma non lo prenderò mai Così lontano Dice un coniglietto Eh ma mi sente Scappano Mi sente Scappano No dovrei proprio appostarmi Al momento Non ho ancora le capacità Mi sa Ecco posso farmi una zuppa Di funghi Per prendere un po' di calorie Questo me lo ricordo Allora Sì sì Si prende i funghi Mi davano tipo 300 calorie Ma è meglio che niente Dovrei anche dormire un po' Ma io dormire vicino a un orso Non me la sento po' per niente Guardalo là Allora Cuciniamo Cuciniamo Il fungo Così intanto mi Mi scaldo anche E scaldando mi posso Andare Andare in giro Pertanto ho ancora 8 ore di luce Ok Begiamoci il tè Eh lo so che Lo so che sto Che ho fame Però questo è il meglio Che ti posso dare al momento Al momento questo è il meglio Che ti posso dare Non ho veramente niente Mi cucino anche una tazza di tè Il fuoco sta morendo Eh il fuoco muore Perché è ventoso Rip fuoco Rip fuoco Ora ci sono solamente C'è solamente la brace Beh però Ho fatto quello che dovevo fare Lo sento ancora un po' di gradi Qua dentro Perché ovviamente c'è la brace Allora Mi bevo La tazza di caffè Che mi do anche questo Centacalorie Donna che rumore Dove è andato l'orso? Non lo so Allora la sopra Io avevo visto Delle tracce umane Quindi andiamo a controllare Tanto alla massima c'ho l'arco Se incontro qualche lupo Però non so se può succedere Un lupo con un arco Qua mi addentro ancora nella foresta Porca Eva Quanto vorrei una bussola Una mappa Oh casetta 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 Oh Finalmente Segni di civiltà Oh Mica Alleluia Oh Perfetto Ui Oddio Scusi Buongiorno Buongiorno Lei cosa c'ha? Painkillers Dalli a me Hai qualcosa altro addosso? C'hai anche una chiazza Oh Oh Questo me lo prendo subito E me lo bevo Grazie Molto gentile Contentore di metallo Che c'è qua dentro? Bende Ok Anche per se per ora Per fortuna Non mi sono ancora mai ferito Un cappottone Un cappottone Io me lo metto il cappottone Anzi no Non me lo metto Non è un cappottone È una schifezza Senza maniche Ok Forse è meglio non metterselo Anzi Lo droppo pure Perché è veramente Mal ridotto Mi pesa solamente Cavoli Non c'è neanche una stufetta Eh sono stanco Lo so Allora Innanzitutto mi bevo Mi bevo la La cosa Che mi dà un po' di calorie Perché sono veramente a secco Col calorie Mi serve cibo cavoli Mi serve cibaria Mi serve cibaria Ok In questa baracca Non c'eramo niente di che Questa dai Cos'è? La latrina di Shrek È questa Non posso nemmeno aprirla Ma dai Ma 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 dai Non si può aprire Ma non c'è niente dentro Sì E quello è il cesso Quello è il cesso Quindi non c'è più niente qua Mi avete illuso Insomma Pensavo di Porca vacca Qua è pieno di coniglietti Io vorrei spararne a uno Io vorrei spararne a uno Perché non posso? Ah Mi prendi per il culo? Cioè non posso Usare l'arco d'acco vacciato? Vabbè Ok Ah non ho neanche il mirino Sì Vabbè Ma quanto è difficile Ma non ce la farò mai Cioè L'unico modo che ho Per prenderla È che io gli vada proprio in faccia Così Eh lo so Sta morendo di fa No No L'ho lanciato per sbaglio Ok ora scopriamo se posso recuperarla Io spero di sì Meno male Ok se posso recuperarla Allora posso fare dei tentativi Il più meno il centro è quello Ah Dopo un po' la mollo Ok Dopo un po' la mollo Perché Perché ovviamente Non ce la faccio più a tenderla Tu sarai la mia vittima E vaffanculo No 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 È difficilissimo È difficilissimo usare questo arco Lì c'è una piantina Non è che è la piantina Che mi serve per fare Le frecce Quella che mi chiedeva lì Il sapling Birch sapling Quello che è Piantina Green maple sapling Ok Questo mi serviva per qualcosa Non mi ricordo per cosa Ma mi serve Oh perfetto Quindi Le piantine si trovano Ovviamente In giro così Cioè devo anche calcolare Calcolare la caduta Madonna Questo cos'è? Green birch Ok Questo è quello che serve Per le frecce Io prendo tutto Perlomeno ora Non fa più freddo Sento solo un grado Che culo Dove essere mezzogiorno Quello è un lupo Due lupi Corri 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 Qua Questo cos'è? Questo mi sembrano Tronchi messi Un carcassa di cervo Questi sono tronchi messi Dagli umani E lì c'è una roba gialla Allora Una cosa per volta Una cosa per volta Carcassa di cervo New location Clear cut Una freccia Però è spezzata Boh magari posso recuperarla Allora Dammi tutta la carne che hai La pelle Per ora la lascio qui Perché Ci sono bisogno di 5 giorni Per farla seccare Io non ne ho Ok Ma qua non fa più freddo Ho 3 gradi Quello a me sembra Tanto un bus Quello a me sembra Tanto un bus Bisogna stare attenti Per terra Perché Allora qua È un insediamento Umano Quindi ci potrebbero essere cose Qua per terra Eh lui è bello anche stanco Sono veramente stanco Infreddolito adesso Ho 6 ore di Di giorno Quindi mi sa che lo lascio Bello stancare Fin quando non Non arriva la notte E mi faccio tutta una tirata Fino al giorno dopo Cos'è questo cartello? Un cartello dei camion Ah ok Quindi questa era tipo Una segheria Però qua Allora qua Disboscavano la foresta E poi dov'è che la portavano Magari di là c'è qualcosa Ora andiamo a vedere Prima mi infilo nel bus È un cartello Io pensavo fosse un bus Cartello con scritto Cosa cazzo è? Eh sì Sarà la La compagnia Aspè Deve andare sopra? Sopra quindi magari c'è una casetta? Io seguo le indicazioni Ok Questa è la staccionata Che ho visto prima da sotto Ed è un buon segno Perché Se c'è una staccionata Vuol dire che questa era una strada Percorribile una volta Quindi Qua sopra ci deve essere per forza Una casa Una baracca Una chiesa Una fabbrica Qualunque cosa Mi va bene qualunque cosa Basta che sia al coperto Oh vedo uno zaino Questo è un ulteriore Simbolo di civiltà Intorno Uh Allora Oh candy bar Cibo I corvacci mi attaccheranno Chi lo sa Soda È un cazzo Vabbè Mi accontento Guarda Mi accontento Allora 250 calorie Dammele Dammele tutte Dammele tutte Poi 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 Soda Alta 250 E bevo anche Appena mi cucino la carne di cervo Comunque Mangio la sazietà Dai sali sali Un ultimo sforzo Un ultimo sforzo Lo so Hai fame Hai fame Hai freddo Sei stanchissimo Però Ho assolutamente bisogno Che mi arrivi in cima qua E guardiamo cosa c'è Eh lo so Che sei troppo stanco Resisti So che puoi farcela Dai dai Lo meno sento Che c'è qualcosa qua sopra Cioè per forza Ci deve essere qualcosa qua sopra Non puoi farmi fare Tutta questa strada per niente Mi incazzo tantissimo Sì Lo sa Beh Non è proprio quello che mi mi mente Però Però è comunque una costruzione È comunque una costruzione E forse anche coperta sopra Ok è coperta sopra E quella è una canna fumaria Benissimo Sappiamo dove passare la notte Sali le scale Sali le scale Dai che tra poco ti riposi Mangi Sì sì No non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Adesso spero anche di trovare oggetti utili qua Però guardate che bella vista Io soffro di vertigini incredibilmente Quindi forse Non sarebbe stata una bella vista per me Però Letto Letto e caldaia Ah Così si apre Chiudi Oh Quanta roba Oh Grazie 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 Quanto si sta qua dentro? Zero gradi È proprio un po' fredda Non è importante Fuoco Accendiamola Con la un po' Perché ho freddissimo Bisogno di Ok Sei minuti Ma anche no Cazzo non ho Non ho più bastoncini Non ho più niente Devo mettere il carbone Minut before Ah ok Devo aspettare Mi sa che Vabbè qua c'è Qua c'è questo Poi c'è questo Perfetto Dammi altri giornali Per favore Prendi tutto Prendi tutto Prendi tutto Prendi tutto Accetta Mi sa che Devo spaccare Un qualcosa Survive the outdoors Uuu Impulse Fire starting kit Oh Perfetto Così almeno Uh proiettile Proiettile Simi in kit Ce l'ho già Metal container Cosa c'è qua dentro Un cazzo First time kit Perfetto Per la rete energetica Antibiotici Ok basta così Poi quello No quello ce l'ho già Un altro coltello Oh è pieno di coltelli Eh E questo cos'è Mounting rope 5 kg No troppo pesante Però la tengo qua Non so cosa mi serve Magari mi servirà Qualcosa di utile Beh sicuramente Ok È arrivato il momento Di cucinare Allora Cuciniamoci tutta la carne Divisione Tutta tutta New pork and beans Ah posso anche cucinare I fagioli Beh questo no Perché tanto è in scatola Ok Adesso ci mangiamo Ci mangiamo La carne 800 calorie 200 Perfetto 800 calorie Mangia 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 Dai a me Tutta E anche questa E beviamo un po' D'acqua No no Quella sporca Ops Ho bevuto Dell'acqua schifosa Sto bene Giusto Ma sembra stare bene Ok ragazzi Allora È stato un episodio Di ricerca Più che altro Di ricerca Siamo finalmente Per fortuna Arrivati in questa Bella base Questa bella base Sopraelevata In cui sto benissimo E direi che mi Mi faccio una bella Pennica Noi ci vediamo Al prossimo episodio Vi ricordo di mettere Il bel commento Il mi piace E di condividere I video su Facebook Per aiutare il canale A crescere Ciao 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 ciao